Sabato 16 giugno è partita d'erchie nel latino di Palazzo Lucale l'evento dal titolo Degustazioni letterarie. Alle ore 18.30 è ristata la presentazione del libro La Guerra del Vino, scritto da Alfredo Polito e Valentina Pennetta, edito da Manni Editore. Nel volume si parla delle politiche governative dopo l'ingresso italiano nel mercato comune europeo e delle insufficienti riforme agrarie del sud, terra di preda per gli industriali del nord che in Puglia compravano il vino da accorpare al Chianti e al Barbera, le quali furono anche oggetto non solo di dibattiti parlamentari. All'interno dell'atrio la Confesercenti, attraverso degli esperti, ha anche presentato e mostrato i prodotti biologici di alcune masserie locali.